guarda come vanno di moto ma vedi che roba vieni degli animali sono cazzo degli animali da tiro porra coda ma hai visto che è andio ma quanto saranno salite 25 occhio che va che roba va che roba va che roba altro che 25 guardano anche a 30 allora ragazzi ne hai visti bene di qua è vero guarda che roba sono le biciclette fare una manata la macchina lì con ogni macchina che passa diventi ricco ti puoi ritirare la vita privata ti puoi ritirare